ariete il vostro approccio è valido ma un po antiquato non siate tanto ostinatamente aggrappati alla tradizione toro vi verrà fatto un'offerta che dovreste esaminare con la massima attenzione non dite no prima di averla valutata sotto ogni punto di vista gemelli darete una dimostrazione a qualcuno di cosa intendete voi per divertimento potrebbe essere la nascita di una nuova piacevolissima amicizia cancro sarete tentati di utilizzare un metodo non del tutto lecito ma potrebbe essere l'unico sistema che potrebbe aiutarvi a uscire da un vicolo cieco leone state per raggiungere un accordo con un amico che potrebbe procurare senza nessuna difficoltà ciò che serve ad entrambi vergine non vedete l'ora di avere un po di tempo libero per dedicarvi a ciò che vi piace fare ma dovrete portare a termine certe incombenze ben più noiose bilancia ci vorrà creatività per riuscire a schivare un problema domestico che si fa sempre più ingombrante qualcuno si sta comportando in modo scorretto scorpione farete un figurone grazie alla vostra capacità di mantenervi sereni ed equilibrati di fronte ad una situazione che fa saltare i nervi a tutti gli altri sagittario dovrete affrontare un ostacolo impegnativo prima di riuscire a puntare ad un obiettivo più ambizioso consideratelo un test di prova capricorno attenzione a non rivelare troppe cose il successo dipenderà dalla vostra capacità di mantenere un certo numero di segreti acquario avete la sensazione di non riuscire a entrare in contatto con il vostro centro questo scombussolamento per fortuna non durerà a lungo pesci soltanto voi potete riuscire a disinnescare una bomba che sta per scoppiare nessun altro è in grado di prevedere o prevenire il pericolo